Pesante sconfitta esterna per l'Unitas Sciacca, travolto per 4-1 a Castel Termini sul campo della seconda in classifica. Una partita cominciata male e che i neroverdi non sono riusciti più a raddrizzare, nonostante tanta buona volontà. Adesso i punti di vantaggio dei seccensi nei confronti degli argentini scendono a tre, mentre rientrano in gioco per la lotta promozione anche Dolce Onorio Folgore di Castelvetrano e Mazzarese, ieri entrambe vittoriose, che si portano rispettivamente a 4 e 5 punti di distanza. Brutta partita quella dell'Unitas, che ha compromesso tutto già nel primo tempo, subendo tre reti, sbagliando un calcio di rigore e rimanendo in inferiorità numerica. Nel secondo tempo poi i giochi erano ormai fatti. Il Castel Termini va in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un calcio di rigore dubbio trasformato da piazza. Al quindicesimo i seccensi potrebbero subito pareggiare, ma Galluzzo si fa ipnotizzare dal portiere di casa, Allegro, portiere che lo scorso anno difendeva i pari dell'Unitas, e che evidentemente conosceva i segreti dell'ex compagno nel calciare i rigori, il quale finora infatti le aveva sempre segnati. Al ventiduesimo il raddoppio dei padroni di casa con Sila, mentre al trentaseesimo arriva la terza marcatura con Basiru. Nel mentre viene anche espulso a bene tra le file dell'Unitas, per un fallo di mano in un'azione da rete, considerato pulibile dal fiscale arbitro loiodice di Torino. Nella ripresa i neroverdi provano a reagire ed accorciano subito le distanze grazie ad un calcio di punizione di Tummiolo. Le illusioni di rimonta si spengono però poco dopo quando arriva la quarta marcatura del Castel Termini con Agnello al sessantottesimo. Poi succede poco o nulla fino al fischio finale. Va dato atto ai padroni di casa di aver giocato bene, meritato la vittoria e messo in campo tantissima determinazione e pressing. Anche ieri erano circa 200 gli ultras neroverdi presenti a Castel Termini, i quali non hanno fatto mancare il loro sostegno per tutto l'incontro. Si ferma dunque ad 11 la strisce di vittorie consecutive per l'Unitas, formazione che comunque resta saldamente al comando del Girone A del campionato di promozione. Ci sarà ovviamente da lottare fino al termine del torneo, posto che, come detto, le distanze si sono accorciate e che Folgore e Mazzarese contano di non mollare il duo di testa. In classifica, Sciacca primo con 44 punti, Castel Termini 41, Folgore 40 e Mazzarese 39. Per Mister Piazza, squadra e società cambia poco o nulla. Occorre continuare a lavorare e far quadrato fino alla fine, consapevoli del primato e delle qualità in essere all'organico, rinforzato nel mercato invernale. Prossima giornata, la ventesima, che vedrà lo Sciacca in campo sabato 1 febbraio alle ore 15 al Gurrera contro il Lascari, partita anticipata per evitare la concomitanza con la processione della Madonna del Soccorso. In terza categoria, Girone Unico di Agrigento, infine, Vittoria Castelinga per il Pro Sciacca, che ha meritatamente superato di misura la Quisquinese Santa Rosalia. 1-0 il risultato finale, decisivo il calcio di rigore siglato da Bitetto. Per la squadra di Buondonno si tratta della terza vittoria in campionato su nove partite, con 11 punti in classifica.